Eccoci qui ragazzi ben ritrovati, buon venerdì, chiaramente oggi che siamo alla vigilia dell'ultimo turno di campionato stasera c'è la prima partita dell'ultimo turno di campionato che si chiuderà proprio domenica sera alle 20.45 con Roma-Atalanta non poteva tenere banco in casa Roma le dimissioni di Pinto, Pinto che lascerà la Roma anticipatamente visto che aveva il contratto di scadenza il 30 giugno di quest'anno, rassegnerà le proprie dimissioni il 3 febbraio in accordo con la società in maniera anticipata per dare la possibilità a chi sopraggiungerà al suo posto nel mese di febbraio o anche a fine gennaio, vedremo un po' se verrà ufficializzato prima o dopo il nuovo DS che dovrà programmare la fine della stagione, l'inizio della stagione prossima con le proprie strategie di mercato diciamo che questa notizia è arrivata un po' a ciel sereno come fulmine a ciel sereno perché tutti non c'erano stati rumor, di rinnovi non ce n'erano stati ma non ce n'era neanche per Murigno quindi dice forse la società sta valutando bene in questo inizio anno e da farsi però questa mossa chiaramente è molto molto significativa da parte della società perché diciamo che sta per concludersi il primo ciclo dei Fritkin visto che Pinto è stato scelto da loro tre anni fa adesso vediamo il sostituto chi sarà insomma e soprattutto se avrà ripercussioni questa iniziativa anche sul rinnovo o meno di Murigno perché questo poi è quello che tiene banco in casa Roma adesso perché questa decisione di Pinto può essere interpretata in due maniere la prima è che dopo Pinto possa lasciare anche Murigno perché la società evidentemente vuole chiudere il primo ciclo di tre anni e vuole cambiare pagina e vuole affidarsi a nuovi dirigenti, a un nuovo allenatore e fare un nuovo progetto cosa che secondo me sarebbe deleteria per la Roma perché ragazzi cioè noi dobbiamo capire che una squadra per poter programmare per poter essere pronta per vincere per poter costruire qualcosa di importante deve avere almeno lo stesso allenatore per 4-5 anni di seguito perché altrimenti i ragazzi non so che costruisce nulla la Roma negli ultimi anni, Murigno è stato l'allenatore negli ultimi anni che praticamente è rimasto di più negli ultimi 20 anni della pacchina della Roma perché mi ricordo Luisa Rica è rimasto un anno Zeman ha fallito Rudy Garzia è rimasto due anni e mezzo Spalletti è rimasto un anno e mezzo Fonseca è rimasto due anni Di Francesco due anni Noi ragazzi se non programmiamo in maniera seria c'è poco da fare non si va da nessuna parte, non può cambiare allenatore ogni due anni Per cui o questa infausta cosa succederà e la Roma si affiderà a un nuovo allenatore nuova società, nuovo direttore sportivo si ricomincerà da zero chiaramente ridimensionando le ambizioni perché se tu dai via Murigno o prendi Conte e c'è una certa continuità nel volere ottenere risultati ambiziosi oppure se tu come sento già metti nel merino italiano metti nel merino palladino metti nel merino qualsiasi altro tipo di allenatore di questo genere vuol dire che ti vuoi ridimensionare chiaramente a noi tifosi questo ci rimanerebbe molta 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 delusione dall'altro canto invece potrebbe essere la svolta proprio per il rinnovo di Murigno visto che Pinto non ha mai avuto rapporti di liaci con Murigno non si sono mai presi del tutto anzi secondo me quasi mai allora potrebbe essere il trampolino di lancio invece per rinnovare Murigno altri tre anni magari mettergli vicino magari dagli l'eventualità di dagli anche dei poteri a livello di mercato magari affiancandogli della gente competente di livello e quindi potrebbe essere invece una svolta positivissima in Casa Roma i nomi del nuovo dei sostituti sono sempre gli stessi che circondano da qualche giorno c'è François Modestot che però è ancora al Monza quindi non so se sia fattibile liberarlo e farlo venire da noi e poi c'è Massara che è già stato a Roma con Sabatini prima e poi successivamente a fare il direttore sportivo con la Roma per cui questo è il nome più papabile insomma altri nomi che circano abbastanza fantasiosi come quello del Marsiglia o Finen Vien che è quello che è ex Lipsia Salisburgo e Chelsea insomma non vedo altri nomi all'orizzonte poi è chiaro che la Roma c'è sempre i fritti che hanno sempre dimostrato grande espluano di notizie come quando annunciarono Murigno magari ti annunciano un Sartori un Corvino un Sabatini non lo so ragazzi però secondo me Massara magari affiancato anche da un Maldini ecco a me non mi dispiacerebbe che alla Roma arrivi la coppia Maldini Massara come ha fatto con il Milan che hanno vinto lo Scudetto poi alla fine quindi ragazzi vedremo vedremo quello che accadrà la situazione a indevenire è chiaro che con queste dimissioni la società sta dando un forte segnale del fatto che secondo me entro questo mese noi sapremo il destino di Murigno e sapremo chi sarà il nuovo direttore sportivo è un anno particolarmente decisivo per le ambizioni della Roma quest'anno perché o conquisti la Champions quest'anno o cerchi di vincere un ulteriore trofeo dopo la Conference quest'anno più prestigioso oppure ragazzi qui tocca rimboccarci le maniche ripeto è una situazione positiva perché Pinto non è mai stato un direttore sportivo ha fatto sempre il direttore generale ha fatto tantissimi errori sul mercato in tutti gli anni che è rimasto qui a Roma basti vedere il primo anno Vigna e Schumuro pagati 30 milioni l'anno scorso insomma il flop Wijnaldum e altri acquisti diciamo anche quest'anno molto molto discutibili come Cristensen come Renato Sanchez che però era una scommessa come Awar che sapevamo fosse un giocatore insomma con tanti problemi e quindi lui è stato sempre bravo a vendere e a far quadrare i conti perché Pinto su quello non gli si può di niente ha veramente mandato via tutti quei quei giocatori inutili che erano stati presi da Monce e Petraghi e quindi ha sfoltito la rosa e il Montengaggi ma come direttore sportivo come scouting e come collaboratori ha lasciato molto a desiderare per cui questo è l'importante adesso che a Roma arrivi un direttore sportivo d'esperienza capace che abbia i contatti giusti che abbia un entourage scouting alla parguardia perché la Roma ne ha assolutamente bisogno e diciamo che vedremo adesso in questo mese cosa accadrà cosa succederà se Murigno rinnoverà con un nuovo direttore sportivo o ci sarà veramente un cambio di passo radicale in Roma si chiuderà un ciclo e se ne prenderà un altro che secondo me sarà di ridimensionamento invece secondo me con la conferma di Murigno e magari con un duo Massara-Maldini a fare direttore sportivo invece qui ci sarebbe una continuità e una voglia di rinnovare ma di non abbandonare le ambizioni di vittoria ecco intanto vi do una notizia di mercato è a un passo l'acquisto di Jensen 18 anni difensore centrale della primavera della Juve acquisto che secondo me ragazzi può andare bene ma non può essere il titolare della Roma cioè secondo me è il primo difensore centrale che arriva in pressa ma ne dovrà arrivare sicuramente un altro ragazzi perché non è che questo arriva a 18 anni e fa il titolare in Roma Pinto si trova occupato di questo mercato speriamo che lo faccia in maniera professionale fino al termine poi saluterà e questa è la situazione ragazzi che ci prestiamo a vivere prima della fine del girone d'andata domani faremo l'anteprima della partita con l'Atalanta domenica vedremo la partita e faremo il commento ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione in casa Roma con le dimissioni di Pinto iscrivetevi al canale tanti like commentate e ci aggiorniamo domani sempre per parlare della nostra Roma grazie a tutti grazie a tutti